Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. A me. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. A me. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservasi dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando, perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata di tutti i Santi, Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, per venti religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Meditiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci fa sentire il grido gioioso del mattino di Pasqua, un grido che attraversa tutta la storia. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrorabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, come in questo momento, diciamo con fiducia, Cristo è risolto. Queste cose finiranno. Quando sentiamo anche il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e diciamo Cristo è risolto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della risurrezione, anche per il mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a fare donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a fare donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a fare donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a fare donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a fare donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a fare donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a fare donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a fare donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a fare donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a fare donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiosi e missionari, alla Tua Chiesa. Il secondo mistero glorioso è l'ascensione di Gesù al cielo. Con l'ascensione Gesù non ci ha abbandonato, ma si è nascosto, è sempre presente in mezzo a noi. L'ha detto con sicurezza, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E cosa dobbiamo fare noi in questo tempo? L'ha detto Gesù, chiaramente, Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo, cioè la vera buona notizia. Maria Teresa diceva, In questo mondo la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. La felicità si trova soltanto vivendo il comandamento di Gesù, soprattutto il comandamento dell'amore. Noi dobbiamo testimoniare questa verità. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo. Prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come è, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando, perdono, per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amano. Per intercessione, di Maria Immacolata, di tutti i Santi, concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla Tua Chiesa. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù. Lo Spirito Santo discende sugli Apostoli, raccolti in preghiera nel Cenacolo attorno a Maria. Nelle rienti di forza, di coraggio, di entusiasmo, escono dal Cenacolo e inizia il cammino missionario della Chiesa nel mondo, che oggi dobbiamo continuare noi. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede oggi. Padre nostro che sia nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. ame. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli, ame. o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando, perdono, per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione, di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diaconi, perventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. È commovente pensare che Cristo ha preso il corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irrevocabile atto di amore per noi, per tutta l'umanità. E' impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e continuamente cura l'infezione dei nostri peccati. Con l'assunzione Gesù ha detto il suo grazie a Maria e anche noi diciamo il nostro grazie a Maria, Padre nostro. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi, li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, Santi Genitori, Santi Vescovi, Sacerdoti e Diaconi, perventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero glorioso è il paradiso, dove Maria è regina degli angeli e dei santi e dal paradiso ci segue come una madre, segue i suoi figli. Santa Teresa di Lisè, poco prima di morire, disse io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra. Questo vale per tutti i santi, anche per i nostri cari che stanno in paradiso. immaginate quanto è vero che la Madonna passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra, come è consolante questa verità. Padre nostro che se ne scegli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori per non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli, nei secoli, amén. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando, perdono, per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione, di Maria imbacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diapoli, per venti religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Salve, origine, Padre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricordiamo, e sui figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi, gli occhi tuoi, misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà, Signore, pietà, Cristo, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà, Signore, pietà, Cristo, ascoltaci, Cristo, ascoltaci, Cristo, esaudiscici, Cristo, esaudiscici, Padre Celeste, che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo Amore, che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità Unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, Madre della Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre Sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna di amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Madre di Misericordia, prega per noi, Vergine Prudentissima, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, specchio della santità divina, sere della sapienza, causa della nostra gioia, tempia dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, rosa mistica, porta del cielo, stella del martino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergine, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del santo rosario, regina della famiglia, regina della pace, regina lauretana, prega per noi, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, oh Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. O Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità e così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, oh Maria, grazie al coraggio del tuo Sì. Oh Maria, tu sei la madre di Dio, eppure hai conosciuto la povertà, sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci, ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. Vergine Immacolata, prega per noi. Angelo di Dio, che sei il mio custodio, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce per perla, riposano in pace. Amen. Vergine Immacolata, prega per noi. Saludato, Gesù Cristo. Amen.